In questa lettera agli ebrei stiamo vedendo come l'autore ha un cuore che brucia e dà la paura di vedere delle persone che avevano fatto professione di fede. E avevano detto sì, io voglio seguire Gesù come mio Messia, avevano detto io abbandono la vecchia vita per seguire Gesù, eppure in conseguenza le prove, le difficoltà, il peccato, diversi di loro avevano cominciato a mollare. E quindi tutta questa lettera è un'esortazione ai figli di Dio di riflettere quello che noi abbiamo adesso in Gesù. E' tanto superiore a quello che avevamo nel passato. Come possiamo mai pensare di voler tornare indietro? E siamo arrivati a un brano dove l'autore dà un'esortazione, ma molto forte, molto forte, contro l'infidelità spirituale. Cosa è l'infidelità spirituale? E' un atteggimento di una persona che dice sì, 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 e poi alla fine torna indietro. Infidelità contro le promesse fatte a Dio e anche agli altri. Vorrei leggere da Ebrei capitolo 10, cominciando il versetto 26. Infatti, se persistiamo nel peccare, volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divora i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia. Noi conosciamo, infatti, colui che ha detto «A me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione». E ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi, alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. «Infatti, voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa. Infatti, avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso, perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto per fede vivrà e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce». Ora, non siamo di quelli che si tirano indietro a loro peredizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Preghiamo. Padre, chiediamo in questi momenti che apriamo la Tua parola, che lo Spirito Tuo possa guidarci, che possa eliminare dalla nostra mente, dai nostri pensieri, qualsiasi cosa che potrebbe imperirci di ricevere quello che Tu hai per noi. Chiediamo che Tu possa guidare le mie parole, perché possa essere guidato veramente dallo suo virtù, nel trasmettere quello che Tu hai per noi oggi. Ti prego, Padre. Nel nome di Gesù. Amen. Abbiamo visto già qualche settimana fa un brano molto importante, in capitolo 4, dove l'autore di questa lettera parla dell'apostesia, dove parla di persone che hanno fatto professione con la bocca, hanno fatto tutto per far vedere agli altri della loro fede, e a un certo momento invece hanno detto beh, veramente non era del mio cuore, era un pensiero, ma non voglio più andare avanti. E abbiamo già visto il pericolo per chi cade in questa posizione, perché dice il Signore se uno prende una posizione così è impossibile al fine che ritornino. Noi preghiamo sempre per persone che si allontanano dalla fede, sempre. Perché noi non conosciamo i loro cuori. Se sono caduti nella disubbidienza o se stanno semplicemente facendo vedere quelle loro azioni, quelle che c'era sempre, nel loro cuore. Noi non leggiamo i cuori. Ma Dio dice questo, che una persona che ha gustato, ha capito, ha sentito, ha goduto e può girare le spalle, non sarà più concesso a quella persona il ravvedimento dal Signore. E quindi ci sono dei pericoli dell'inferità spirituale, quando uno comincia a fare i passi indietro a quelle promesse che ha fatto a Dio. Prima di tutto rischia l'impossibilità del perdono. Perché non esiste nessun altro sacrificio per il peccato. se loro rinegano il sacrificio che Gesù Cristo ha fatto per loro è finito. Non è come a pranzo se ti portano un piatto di spaghetti alle vongole e tu dici no, a me piace la matriciana e poi dopo ti portano la matriciana. No. No. O Gesù o niente. O il suo sacrificio o niente. Quindi chi rifiuta quello che Gesù ha fatto non ha nessun'altra possibilità di salversi. Se persistiamo nel peccare volontariamente, questo è un atteggiamento di uno che vive tranquillamente nel peccato. non sta parlando dei peccati che noi tutti ogni giorno ci rendiamo conto di aver sbagliato e chiediamo da Dio il suo perdone. No. Perché Giovanni dice nella sua epistola nessuno deve dire che non ho peccato. Pecchiamo tutti però dice se pecchiamo se confessiamo i nostri peccati egli è giusto e fede a rimetterci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. Invece qui sta parlando di persone che vanno avanti nel loro peccato sfidando Dio a fare qualcosa. Vanno avanti tranquilli nel peccato. Dice dopo aver ricevuto la conoscenza della verità. Questa è una persona che nella testa aveva capito tutto. Aveva capito. Poteva essere arrivata anche alle lacrime. ma avendo ricevuto queste cose a un certo momento ha detto non fa per me. Non rimane più alcun sacrificio per i peccati. Se non ti è sufficiente quel che Gesù ha fatto sulla croce non aspettare qualcos'altro. Gesù è morto. Gesù ha pagato. e se a te non ti basta quello non c'è nessuna speranza per te. Invece l'unica speranza che hai che non è mica una speranza è l'attesa di un giudizio terribile. Un giudizio del peccato. Il tuo peccato. Che se tu avessi creduto in Gesù se avessi ricevuto il suo dono di vita eterna come dice in Giovanni 1 se tu avessi invece riconosciuto che Gesù era morto per te la tua colpa il tuo peccato sarebbe stato messo sulle spalle di Gesù lui avrebbe pagato per te ma se tu non lo riconosci vuol dire che non è andato così. A te aspetto solo un giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Non possiamo sperare un giorno che Dio cambia idea con questo grande nonno del cielo che alla fine dice vabbè è uguale. No? se tu non ricevi se non accetti se non riconosci quello che Gesù ha fatto per te sulla croce a te aspetta solo il giudizio non c'è altro perché quando noi minimizziamo quando noi dispreziamo quando noi offendiamo Dio un giorno pagheremo le conseguenze. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due e tre testimoni. Questa frase ci aiuta a capire che questa lettera fu scritta che ancora c'era il tempio a Giurisalemme. ancora c'erano gli ebrei che andavano lì che seguivano che facevano tutto era come se la legge fosse ancora per molte persone in atto. il fatto è questo la legge di Dio è molto severo uno dice ma a me non mi piace l'idio del vecchio testamento mi piace più quello del nuovo è tutt'uno è tutt'uno dove Dio in modo tangibile e visibile e immediato ha punito i peccatori pensate un figlio ribelle non veniva coccolato veniva lapidato sotto la legge di Mosè chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di Dio e o tre testimoni e il discorso è qui se Dio era così severo con una legge che lui ha dato agli uomini che doveva durare solo fino a un certo momento quanto più Dio sarà severo con le persone che non accogono quello che lui ha fatto di molto più grande nel nuovo patto nel Cristo Gesù nostro Signore Salvatore quindi l'infidelità spirituale significa dimostrare disprezzo per il Figlio di Dio possiamo dimostrare disprezzo per le persone in tanti modi ma disprezzo per il Figlio di Dio non sarà non sarà perdonato se non c'è ravvedimento disprezzo per il Figlio di Dio e questa parola disprezzo è una parola che vuol dire calpestare camminare sopra pensate calpestare il Figlio di Dio le persone che dicono sì 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 e alla fine no calpestano il Figlio dicono dicono quello che Lui ha fatto per me non mi dice niente minimizza la potenza del sangue di Cristo e qui è un'offesa contro la sua non solo la sua persona come figlio di Dio ma il suo lavoro il suo ufficio come il nostro Redentore disprezzare la sua morte per noi sulla croce l'unica l'unica nostra speranza per la salvezza e la disprezziamo penso quante volte noi disprezziamo il sangue di Gesù non nel senso letterale anche nel tavolo del Signore quando beviamo il calice che rappresenta per noi il sangue di Gesù senza riflettere bene cosa significava col suo sacrificio per noi senza riflettere bene cosa vuole Lui da noi nella nostra vita minimizza la potenza del sangue di Cristo quando noi non cresciamo quando noi non andiamo avanti quando noi rineghiamo a Dio i suoi diritti nella nostra vita lui ci ha comprati Gesù è morto per noi allora lui pretende noi siamo stati redenti comprati fuori noi appartiamo a lui lo chiamiamo lo chiamiamo un signore non perché come dice un signor Rossi o qualcuno noi lo chiamiamo signore padrone despota signore assoluto signore e poi chi va avanti tranquillamente nel peccato e nel disubbidenza offende lo spirito della grazia quindi non solo offendiamo la persona di Cristo non solo offendiamo l'opera di Cristo ma offendiamo anche lo spirito di Cristo lo spirito santo che vuole vivere noi che vuole condurci vuole guidarci e quando pensiamo dello spirito santo dobbiamo ricordare che è lo spirito santo che ci convince del peccato è lo spirito santo che ci illumina è lo spirito santo che ci fa sperimentare la nuova nascita è lo spirito santo che ci battezza nel corpo di Cristo è lo spirito santo che intercede per noi che prende le nostre preghiere e gli rende il muro degno di arrivare al trono di Dio è lo spirito santo che ci guida nella nostra vita lo spirito santo fa tutto per noi durante questo cammino cristiano e se noi disprezziamo lui se noi offendiamo lui e questa parola offesa è una parola molto forte se noi sputtiamo in faccia allo spirito di Dio con il nostro atteggiamento con il nostro comportamento ci stiamo mettendo molto male quindi chi vive nell'inferità spirituale va incontro alla retribuzione alla vendetta al giudizio divino la parola retribuzione per un lavoratore è una parola buona che vuol dire che dopo un mese speriamo ci paghino ma la retribuzione di Dio contro il peccatore con questa retribuzione non c'è nemmeno speranza che Dio non pagherà lui pagherà perché il salario del peccato è la morte è la morte in Deuteronomeo 32 36 dice Yahweh l'Eterno giudicherà il suo popolo cioè Dio vuole un popolo santo e sappiamo in Israele c'era chi apparteneva per motivo di nascita e c'era anche un popolo in mezzo a quello che veramente credeva chiaro chi apparteneva per nascita e non per fede andava incontro a questo giudizio a motivo dell'infereltà e una cosa che mi corpisce sempre quando leggo il Vecchio Testamento di vedere l'infereltà del popolo di Dio e questi che sono stati infedeli a Dio pagheranno poi c'è da avere paura la parola qui è la parola fobia ma una paura molto forte ci sono delle cose di cui abbiamo molta paura un Dio santo è qualcuno di cui abbiamo da avere molta paura perché lui non scherza col peccato è una cosa paurosa cadere nelle mani di un Dio santo quindi è grande motivo di paura ho messo diversi versetti ma non andremo a guardarli tranne di ripetere uno che abbiamo visto qualche settimana fa Ebrei 6 da 4 a 6 infatti quelle che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipare allo Spirito Santo hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti è impossibile ricondurli di nuovo al ravedimento perché crocifiano di nuovo per conto loro il figlio di Dio e lo espongono a famia quando una terra imbevuta dalla pioggia che vi cade frequentemente produce erbe utili a quelle che la coltivano riceve benedizioni da Dio ma se produce spine rovi è riprovata e prossima a essere maledetta e la sua fine sarà di essere bruciata noi abbiamo visto quel brano in modo dettagliato poco fa però basta capire che qui sta parlando di una cosa impossibile nel senso che se uno veramente conosce Dio se uno veramente c'è il cuore cambiato non cadrà in questo a quel punto dovrebbe poi ricorcifiggere Gesù che anche è impossibile perché bisogna credere in lui e camminare andare avanti per fede non dimostrando le caratteristiche di un'apostata che ha visto ha gustato ha toccato eppure ha girato le spalle a Gesù qual è la forza contro l'inferenità spirituale uno dice beh allora a quel punto forse non ce lo faccio nemmeno io l'autore qui va avanti e dice ma ricordatevi di quei primi giorni cioè l'intento di questo autore non è di mettere in crisi i credenti i salvati quelli che conoscono Gesù quelli che hanno sperimentato la nuova vita non è di mettere in crisi quelle persone ma di avvertire magari persone che stanno in mezzo che dicono si 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 però dentro dicono di no ma ricordatevi di quei primi giorni in cui dopo essere stati illuminati voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa qui sta parlando a credenti in Cristo Gesù discepoli che in un primo momento avevano scoperto la gioia della nuova vita in Gesù tanto tanto entusiasmo però a motivo della stanchezza anche la persecuzione le difficoltà erano arrivati anche a mettere in dubbio la propria salvezza sappiamo che la vita ci presenta diverse difficoltà e quando noi passiamo dei momenti magari non si dorme magari non stiamo bene abbiamo un caro che sta malissimo e dobbiamo fare le notate dopo due settimane di questa vita in ospedale magari siamo stanchi morti e Satana con la nostra stanchezza ci butta giù anche dalla depressione quindi questo brano è per incoraggiare i fratelli che hanno avuto dei problemi grandi stanno soffrendo molto però per dire ricordatevi ricordatevi quello che Dio ha fatto non mettete in dubbio quello che Dio sta facendo adesso quindi il ricordo delle benedizioni io ho messo ma sono persecuzioni che hanno subito ma una persecuzione come può essere una benedizione prima di tutto è un segno che noi appartiniamo a Dio è un segno che Dio ci ama è un segno che a Dio interessa la nostra crescita è un segno che Dio vuole utilizzare la nostra testimonianza anche in mezzo alla prova verso persone che non lo conoscono quindi ricordate queste cose la benedizione della nuova vita l'illuminazione che non hai capito per la prima volta che Gesù era morto per te la gioia l'entusiasmo e cerca di non pensare a questo momento attuale che stai passando ricordate nel passato come Dio vi ha sostenuto nelle prove io non sono mai stato buono a tenermi un diario mai mi dispiace perché troppe cose belle che ha fatto il Signore nella nostra vita ho dimenticato ma nei momenti di prova è importante andare lì a vedere a ricordarti di quello che Dio ha fatto per te nel passato ricordare questo sostegno nella lotta e nella persecuzione gli attacchi contro la propria persona attacchi personali vituperio derisioni pubbliche attacchi contro contro anche la fratellanza dici ricordate quelle cose e la sofferenza anche con i carcerati qui parli di credenti erano stati arrestati per la loro fede eppure questi fratelli non hanno avuto paura di andare là e di assistere questi fratelli che avete assistito qui dice con cordoglio con le preghiere con l'impegno pratico identificandosi con loro e la prontezza di subire anche con loro gioia dice qui simpatizzate con i carcerati accettate con gioia la rubere dei vostri beni sapendo di possedere una ricrezza migliore e duratura gioia nell'essere abusati dei rubati quando arrivano i ladri non è che abbiamo tanta gioia ma pensate a uno che per motivi di fede gli viene tolto tutto dice gioia gioia questo vedremo tra qualche settimana in ebrei 11-24 dove Dio parlando di Mosè dice che lui a un certo punto ha preferito sperimentare il vituperio la sofferenza col popolo di Dio anziché godere il potere le ricchezze che lui aveva come figlio adottivo del farone sapendo lui dice che lui guardava alla fine anche noi nei momenti di prova dobbiamo ricordare questa frase sapendo di possedere ben altro la vita non finisce qua le nostre ricchezze non sono di questa terra sono di quella futura sapendo di possedere ben altro anche Gesù quando insegna sermoni sul monte Matteo se parla di questo fatto poi dice cercate prima il regno di Dio la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte sicurezza nel futuro questo è nostro anche in mezzo alle prove quindi non molliamo non ci arrendiamo perché sappiamo che Dio ha un piano se noi arriviamo al punto di mollare tutto vuol dire che la nostra salvezza il nostro rapporto con Dio era nel cervello non nel cuore Dio non ci aveva cambiato due scrittori nei primi secoli uno Tacito e anche Clemente di Alessandria scrissero una cosa molto semile scrissero la loro morte parlando dei credenti era un fatto di sport pensate al Colosseo i romani andavano si mettevano in platea per vedere lo spettacolo qual è lo spettacolo del giorno ci sono dei cristiani che verranno ammazzati a bene voglio per sport venivano ricoperti dalle pelli di animali e attaccati dai cani oppure fissati alle croci e incendiati per servire come torce dopo il tramonto questa era la fine di tanti nostri fratelli in Cristo Gesù nei primi secoli eppure in tutto quello loro trovavano gioia e coraggio voi simpatizzate con i carcerati e accettaste con gioia la rubere dei vostri beni sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura avendo parlato di così dice perciò per questo motivo versetto 35 non abbandonate la vostra franchezza dice avete già fatto così tanta strada col Signore avete già subito tanto e volete mollare volete abbandonare pensate al nuoto io una volta ero anche bagnino però il nuoto è difficile ma pensi a una persona che fa una nuotata lunga attraversa un lago nuota nuota arriva quasi alla riva e dice non ce lo faccio più torno dietro non è possibile e qui dice ma avete già fatto tanto siete arrivati come potete pensare di tornare indietro non gettate via la vostra franchezza la vostra sicurezza nel Signore che ha grande grande ricompensa qui c'è l'allusione nella scrittura romana di un soldato che dopo la battaglia con la gioia che è finita la battaglia getta via getta via lo scudo tanto non mi serve più però quando lui va a ricevere la paga dico ma dove lo scudo non ce l'ho più ma come sappiamo che sei soldato rischiano di non ricevere la sua paga e qui dice non gettiamo via questa convenienza di perdere tutto quello che il Signore ci ha promesso puoi non venire meno nella costanza per Dio infatti avete bisogno di costanza affinché fatta la volontà di Dio otteniate quello che vi è stato promesso costanza nella prova significa arrivare fino alla fine di potere grazie Signore è passato quello ma se noi a metà strada ci arrendiamo come se non avessimo fatto niente avete bisogno di costanza dice qui affinché fatta la volontà di Dio che è la sofferenza che questo momento che state passando otteniate quello che vi è stato promesso non dimenticare poi le promesse di Dio quando a noi vengono meno le forze è perché abbiamo dimenticato le promesse di Dio perché il versetto 35 37 dice ancora un bravissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà sappiamo che Gesù torna sarebbe veramente un peccato venire meno poco prima dell'arrivo Gesù sta venendo si voglia dice 2000 anni ma se sono già passati 2000 deve essere molto breve l'attesa Gesù sta tornando ancora per poco tempo dice dovete resistere ora noi non siamo di quelle che si tirano dietro alla loro perdizione chi si tira indietro dimostra di non aver capito niente di non avere quel rapporto con Dio che gli ha cambiato la vita di non avere la nuova vita in Cristo Gesù si tira indietro alla loro perdizione ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita Abacuc è un profetta veramente grande se riesco a trovarlo perché non è facile trovare Abacuc Abacuc capitolo 2 versetti 3 e 4 e questo è il verso che viene citato qui dall'autore degli ebrei dice perché è una visione per un tempo già fissato esso si affretta verso il suo termine e non mentirà se tarda aspettala poiché certamente verrà e non tarderà egli è pieno di orgoglio non agisce irrettamente ma il giusto vivrà per la sua fede qui è un riferimento storico a una situazione nei tempi di Abacuc però qui l'autore lo prende come illustrazione per dire a noi il giudizio di Dio sta arrivando lui metterà a posto tutto quello che è sbagliato quindi non molliamo non ci arrendiamo non tradiamo la nostra fede in Dio poi Dio dice qui il mio giusto vivrà per fede vivrà dalla fede sarà la sua fede di portarlo avanti siamo salvati per fede per la grazia di Dio ma viviamo la vita cristiana per fede per la grazia di Dio giorno per giorno andiamo avanti dice fino quelli che hanno fede per ottenere la vita non per mancare all'ultimo secondo per ottenere la fede quindi sta scrivendo a questi fratelli incoraggiandoli di andare e vati di non mollare ci sono quattro osservazioni che vorrei fare qui uno nella chiesa visibile ci sono dei falsi ipocriti che saranno puniti da Dio per l'eternità se non si rivedono se non vengono alla fede avranno vissuto una vita bella eh cosa quanto è bravo però dentro il loro cuore hanno vissuto una falsità e ci sono anche in mezzo alla chiesa locale numero due è il nostro dovere come figli di Dio se siamo nati di nuovo manifestare la nostra vera coscienza con sincerità per dimostrare che siamo tra gli infedeli qui chi sono i fedeli chi sono i veri credenti sono quelli che arrivano alla fine chi non ci arriva non era poteva essere chissà che cosa però se non è arrivato allora non era uno dei figli di Dio noi dimostriamo la realtà della nostra vita cristiana nella fedeltà fino alla fine numero tre niente può liberare l'aposteta dalla sua distruzione quando una persona gusta vede professa e poi torna indietro è condannato niente può salvare quella cosa certo preghiamo noi non sappiamo mai chi è così perché noi non leggiamo i cuori Dio sì però quando Dio vede questo come si dice in italiana non ci sono santi non c'è modo sarà condannato per quella falsità e poi infine la fede sincera porterà i veri credenti a superare ogni difficoltà pericolo o problema fino al giorno della beata speranza cioè il ritorno di Cristo i figli di Dio quelli che hanno lo spirito di Dio potranno superare qualsiasi cosa per arrivare alla fine fedele al Signore chi non ci arriva non lo conosceva e questa è una verità di cui la parola di Dio parla più volte Paolo dice esaminatevi per vedere se siete nella fede non che dobbiamo mettere in dubbio la grazia di Dio nella nostra vita ma fa bene esaminarci ma io mi ritengo credente perché una volta ho fatto una preghiera poi non è successo niente o una volta io ho firmato una cosa che dicevo volevo diventare credente però non è fatto niente o tu vivi oggi con la coscienza che Dio ti sta guidando tu hai una sete per la parola di Dio stai male quando pecchi soffri quando sbagli quando sei disubbidante al Signore allora andiamo avanti per fede fidandoci di Dio che dice Filippesi che ha cominciato un'opera in voi che lo porterà fino al giorno di Gesù Cristo preghiamo padre un brano così ci avverte ci avverte perché abbiamo tutti visto sempre di persone che parlavano bene ma alla fine si sono rivelati di non essere i tuoi figli proteggici da esteggiamenti da peccati che alla fine potrebbero dimostrare anche nella nostra vita la nostra falsità padre voglio chiedere per unire i miei fratelli le mie sorelle qui che possiamo vivere con la sicurezza del tuo amore del tuo perdono riconoscendo i nostri errori i nostri sbagli ma tornando sempre a te con lacrime come mendicanti davanti alla tua grazia sicuri però sicuri del tuo perdono nel nome di Gesù Cristo preghiamo Amen Amen Grazie.